Ciao, sono Valerio. Mi occupo di servizi per le aziende all'interno della concessionaria. Oggi però trattiamo un argomento che interessa anche le persone fisiche. Molti infatti chiedono per soggetti privati se vi è convenienza o meno perfezionare l'acquisto di una vettura mediante noleggio a lungo termine. Beh, la risposta anche per loro come per le aziende è sì. L'aspetto principale è data dalla quantificazione certa dei costi mensili. Un argomento sensibile sia per le aziende sia per i privati. Infatti all'interno del canone mensile vi sono tutta una serie di servizi che non lasciano scampo a sorprese durante l'arco del mantenimento del veicolo. Oltre al fatto che ogni tot anni, rappresentati dalla durata del contratto, l'utilizzatore avrebbe un veicolo sempre aggiornato, sempre nuovo, rispondente alle normative sull'inquinamento e soprattutto molto più in linea col periodo di riferimento.